La produzione di rifiuti è in calo, ma i costi di gestione continuano ad aumentare. Questa è la fotografia scattata dall'ultimo rapporto della Confartigianato che mette in evidenza le falle e i paradossi di un sistema che continua ad essere caratterizzato da pochissimi processi virtuosi. A livello nazionale i dati indicano una diminuzione del 10,1% dei rifiuti prodotti negli ultimi 5 anni, eppure le tariffe di raccorta continuano a galoppare, lievitate del 22,7% dal 2011, denunciano gli artigiani. E lo scorso 30 maggio è andato in scena lo sciopero dei lavoratori dell'igiene ambientale, circa 100.000 in tutto il paese, che hanno incrociato le braccia a sostegno del rinnovo del contratto scaduto da due anni e mezzo. Nella classifica nazionale la Basilicata XIV si colloca in una posizione tutto sommato soddisfacente, con un costo totale annuo del sistema rifiuti, che si aggira intorno agli 81 milioni di euro, pari a 140,5 euro per ogni cittadino. Un dato ben al di sotto della media delle regioni del mezzogiorno, che si attesta sui 172,83 euro pro capite. Il rapporto mette in fila le regioni più care, nel Lazio, Roma compresa, si arriva a un costo di 220,3 euro per abitante, seguono Liguria con 212,7 euro, poi Toscana con 210,3 euro, Campania 196,7, Sardegna 192,1 e Umbria con 182,2 euro. Va decisamente meglio agli abitanti del Molise, dove i cittadini pagano 116,2 pro capite, seguiti nella classifica dei virtuosi, dal Trentino Alto Adige, 130,6 euro, e quindi dalla Friuli Venezia Giulia con 130,7 euro per abitante. Le altre regioni che precedono la Basilicata sono Calabria, Veneto e Lombardia. Quello che emerge dal rapporto di confartigianato è che spesso al costo alto del servizio corrisponde una bassa qualità e Roma rappresenta al meglio questa situazione, battuta solo da Palermo. I risultati migliori a Verona, Bologna e Torino. E in Basilicata la situazione non è certo paragonabile a quella di altre regioni, ma l'emergenza di fiuti negli ultimi anni non è mai cessata. Colpa soprattutto dei cronici ritardi nell'avvio e nel consolidamento della differenziata, salvo alcune lodevoli eccezioni rappresentate dai comuni di Cicloni. Potenza e Matera non danno il buon esempio. In entrambe le città i primi progetti sono stati avviati, ma l'obiettivo delle percentuali di raccorta differenziata richieste dall'Europa è ancora lontano anni luce.